ok 3 2 1 go ciao ragazzi sono sempre io il boss di monopattini vi faccio vedere una cosa ovviamente i lavori del super mega xiaomi pro 2 proseguono poi vi ricordo sempre di iscrivervi sempre 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 seguendo i canali mondo elettrico e talla di facebook novità assoluta canale instagram con il boss di monopattini e infine canale youtube accendete la campanella che ne vedrete sempre delle belle bella lì allora niente sto andando a portare la batteria dal mio amico tecnico che me la rifà completamente questa è 72 volt ci metterò una bms con scarica da 100 ampere una bestia umana praticamente per questo motore ok questo è super xiaomi 84 volt mi raccomando che è i diffidati delle limitazioni perché del boss di monopattini c'è solamente uno ce n'è solamente uno ok vedete che l'ho tolta vedete ok dai ragazzi ciao e ci vediamo alla prossima iscrivetevi sempre ai seguenti canali quando tornerà la batteria questo monopattino le monterò anche l'altro motore che è qui e poi diventerà un animale diventerà un animale ciao ragazzi dal boss ciao